E' stata una mattinata importante per la nostra università, per la nostra comunità, abbiamo avuto la celebrazione dei nostri dottori di ricerca che dopo un percorso di studio, di approfondimento anche all'estero hanno conseguito un titolo importante. Si tratta di percorsi che riguardano tutti i campi nei quali l'Università Mediterranea è interessata, agraria, architettura, ingegneria, scienze umane, giurisprudenza, scienze economiche e quindi motivo di grande soddisfazione aver contribuito alla crescita di questi giovani, tanti altri se ne stanno formando e nei prossimi anni ci rivedremo sicuramente per celebrarne altrettanti ed anche di più. Oggi celebriamo la decima giornata della notte dei ricercatori e delle ricercatrici d'Europa, un'iniziativa che si svolge in contemporanea in tutte le università europee. E' una manifestazione che si riconosce in questo evento della consegna della pergamena perché proprio rimarca l'importanza della formazione, dell'estramento alla ricerca come scenario di sviluppo, come prospettiva di crescita, come idea di innovazione per questo territorio.